Musica Ben ritrovati con questa nuova edizione del Tg Veneziano. L'azienda ha chiesto alla regione di poter vendere all'asta 149 immobili veneziani allo scopo di rimpinguare le casse e garantire in questo modo i servizi sanitari all'utenza. Una necessità a quanto pare dettata dai continui tagli alla sanità pubblica. 87 gli edifici che stanno attendendo l'approvazione alla vendita da parte della regione, un valore complessivo di 35 milioni di euro che si aggiungono poi al valore di un ulteriore lotto di altri 62 immobili, valore stimato in circa 12 milioni di euro. L'azienda potrebbe così ricavarne 47 milioni soldi che dovrebbero far andare avanti i servizi di sanità pubblica sia di Venezia che della terraferma. Ma chi potrebbe acquistare gli alloggi? Si è chiesto che gli edifici messi all'asta non siano indirizzati esclusivamente al mercato turistico, ma che i cittadini possono avere il diritto di acquisto a prezzi più favorevoli per andare incontro alla tutela della residenzialità per i veneziani. E Venezia appunto si riconferma una meta amata dai turisti e anche da quelli più facoltosi, soprattutto per i turisti dell'est, i russi, che tanto spendono nel nostro territorio per lusso e per moda. I dati resi da Global Blue hanno fatto emergere che a Venezia gli acquisti tax free sono aumentati del 13% rispetto al primo trimestre 2016. Per la moda in particolare i turisti spendono molto con uno scontrino medio pari a 662 euro. Sul turismo di lusso russo e giù invece quello giapponese con un meno 12 acquisti fatti soprattutto nelle città di Milano, di Roma e di Firenze e non tanto a Venezia. Ieri in municipio a Mestre sono stati messi sul tavolo alcuni nodi urgenti che riguardano i temi caldi del territorio. La vice sindaco Luciana Colle insieme all'assessore alle politiche sociali Simone Venturini e anche all'assessore dei trasporti Renato Boraso hanno ascoltato ieri in un incontro a Mestre il rappresentante del comitato dei residenti del quartiere Pertini, Giorgio Rocelli. Ma quali nodi principali? Innanzitutto le occupazioni abusive degli alloggi. Il comitato è concorde nel cancellare dalle graduatorie chi è stato condannato per reati contro il patrimonio e chi è stato sorpreso ad occupare abusivamente. Il comune, hanno detto gli assessori, sta valutando la conformità alla legge di alcune proposte. Venturini sul punto ha anche sottolineato quanto sia necessario intervenire in tempi rapidi. Una situazione che dura da decenni, è detto, tra incuria e tra assegnazioni e dubbie nell'edilizia popolare. Peraltro si è anche parlato di un autorecupero delle case murate e, ha detto il presidente del comitato, gli anziani non escono di casa per paura dell'occupazione. Alcune cooperative potrebbero, ha sempre spiegato il presidente del comitato, prendere in mano la ristrutturazione. Il quartiere Pertini chiede interventi anche negli spazi comuni, come la piazza che versa in condizioni difficili con il sempre presente problema dei ratti. Lotta al degrado per un quartiere di 4.000 abitanti, con l'amministrazione comunale che si è impegnata a farsi sentire con questura e prefettura per garantire almeno la presenza di una pattuglia nell'arco della giornata. E a proposito di questo ultimo nodo di degrado, oggi si è svolta la prova più dura per i candidati al posto di vigile urbano a San Giuliano nel campo di atletica tra Via Forte Marghera e Viale San Marco, presenti ai blocchi di partenza per la corsa dei 1.000 metri, tutti o quasi tutti quelli che si erano presentati per la prova dei quiz. Oggi i test di verifica di preparazione atletica, oltre alla corsa, anche salto in alto e anche sollevamento alla svarra. Chi è passato accede alla fase finale con le prove scritte ed orali. 70 sono i posti vacanti. Parliamo invece adesso del casino di Venezia con l'assessore responsabile del bilancio del Comune di Venezia, Michele Zuin, che in un comunicato chiede ai dipendenti della casa da gioco di comprendere gli sforzi dell'amministrazione. Questo a fronte dello sciopero indetto dai lavoratori per la giornata di domani, giornata in cui si deve anche riunire il Consiglio Comunale per l'approvazione del bilancio. Così Zuin fa appello alla responsabilità dei dipendenti che alla riorganizzazione della casa da gioco con ventilato rischio di chiusura della sede di Canvenrami in Calergi e 150 esuberi hanno scelto la linea dura. Il casino continua a erogare al Comune ingenti risorse, eppure viene definito in perdita perché, diversamente da quanto indicato dalla Corte dei Conti, il Comune acquisisce tutti gli incassi e non solo l'utile. Questo quanto si legge in una nota unitaria sindacale. E ancora per i sindacati, il capitale sociale dell'azienda è stato bruciato per la scelta fatta dal Comune nel 2015 di passare alla società del casino agli stabili di Canvenrami in Calergi e di Canoghera, operazione che ha portato al passaggio anche dei debiti e dei mutui per un importo di circa 88 milioni di euro. Una operazione, ha invece commentato Zuin, che ha permesso di far mantenere in capo al Comune la gestione del casino e che ha permesso anche un avanzo di circa 9 milioni di euro nel bilancio della CMVSPA, che ha permesso anche di ricapitalizzare la casino di Venezia a gioco SPA per 1,8 milioni di euro senza che il Comune dovesse sborsare denaro. E adesso invece passiamo alla cronaca. Neon risponde. Il 45enne bengalese è sottoposto a fermo con l'accusa di violenza sessuale su minore a Mestre. L'uomo deve rispondere dell'accusa di aver abusato di un bambino di 11 anni. Nel bed and breakfast da lui gestito in Viale Ardi a Mestre. A denunciare l'abuso è stata la madre del piccolo. La donna era in prova per lavorare nella struttura ricettiva. Aspetterà adesso al GIP decidere se convalidare l'arresto e disporre quindi il carcere o se al contrario potrebbe l'uomo finire agli arresti domiciliari. E invece oggi pomeriggio preoccupazione dettata anche dall'ultimo attacco terroristico avvenuto ieri sera a Manchester. Allarme bomba oggi pomeriggio a due passi da Piazza San Marco. Nel birino un bagaglio abbandonato a fianco di un cestino dell'immondizia. Piazza San Marco cinturata dai vigili del fuoco. Intervento delle forze dell'ordine. Intervento degli artificieri. Si è trattato alla fine di un bagaglio incustodito con nulla di preoccupante all'interno. E sempre cronaca tra il weekend e la giornata di ieri. La cronaca ha fatto registrare una serie di incidenti alcuni anche insoliti nelle modalità. A cominciare dall'impatto di domenica mattina alle sei e mezza circa in corso del Popolo a Mestre. Un giovane mestrino, un 22enne, ha perso il controllo della sua Renault Clio. Con lui all'interno della vettura altri due giovani passeggeri. Altre quattro macchine sono state danneggiate dalla roccambolesca a Corsa. E ieri mattina verso le 5.30 un incidente in via della Libertà in direzione Venezia per un autobus della CTV e un camion. 24 passeggeri feriti tra cui sei codici gialli. Per l'utista del camion che ha tamponato il mezzo pubblico, molto probabilmente per un colpo di sonno, facendolo poi finire anche sul guarda-rail, soltanto ha ricavato dallo scontro la frattura della clavicola e altre contusioni. All'uomo peraltro è stata trovata una pistola di piccole dimensioni priva di matricola, arma clandestina con tanto di cartucce a palla anche dentro il caricatore. La pistola è stata immediatamente sequestrata e il conducente del camion arrestato. L'uomo è un 47enne residente a Casal Maggiore, Cremona. Altro incidente questa volta in Romea, sempre ieri pomeriggio intorno alle 18.00. Quattro le auto coinvolte all'altezza del cavalcavia di Malcontenta, ferite in modo lieve, quattro persone. Blocco della viabilità su tutta la direttrice fino al centro commerciale nave de Vero di Marghera. E poi è stato identificato il pirata della strada di Capossile. Si tratta di un 21enne residente nel Trevigiano, ieri denunciato per omicidio colposo e per omicidio stradale, aggravato dall'omissione di soccorso. Il giovane si è presentato volontariamente ai carabinieri 24 ore dopo l'incidente, a corso sulla Capossile Porte Grandi, domenica pomeriggio. Il giovane ha investito e ucciso un motociclista, Roberto Pettenuzzo, 45 anni, residente a Villa del Conte, nel Padovano. Passiamo invece adesso alla pagina E20 e al Teatro Goldoni di Venezia. Da oggi fino al 28 maggio la performance degli Stomp, i percussionisti acrobati che fanno ballare le platee, facendo suonare i bidoni della spazzatura e i lavandini le scope e gli spazzoloni, con una coreografia urbana che possiede la furia ritmica e sensuale del flamenco. E ora invece le immagini del passaggio della stecca, il momento del termine del 65esimo raduno nazionale Bersaglieri, avvenuto ieri a Pescara tra il sindaco della città e il sindaco di San Donà di Piave, Andrea Cereser. Passaggio di consegne quindi a San Donà di Piave, che il prossimo anno dal 7 al 13 maggio ospiterà sui territori del Piave il 66esimo raduno nazionale Bersaglieri Piave 2018. Questa era la nostra ultima notizia. Vi ringrazio per essere stati insieme a noi. Vi do appuntamento a giovedì, sempre qui a HFTV24, sempre a stessa ora. Grazie. Grazie.